Buongiorno ragazzi! Oggi continuiamo a raccontare la storia degli etruschi. Gli etruschi erano organizzati in città-stato. Ai vertici della piramide sociale c'era un re sacerdote, detto Lucumone, scelto tra i nobili della città. Il re era anche la massima autorità religiosa, i nobili possedevano la maggior parte delle terre, erano guerrieri e sacerdoti. Grande importanza e ricchezza avevano poi coloro che si occupavano dei traffici marittimi e del commercio. Dopo venivano gli artigiani, gli stranieri e i contadini. In fondo alla scala sociale stavano gli schiavi. I Lucumoni col tempo furono sostituiti da un governo composto da un ristretto numero di persone, cioè da un'oligarchia, ed il potere passò nelle mani di poche famiglie aristocratiche. E in cosa credevano? Gli etruschi erano politeisti, cioè credevano in molti dèi, con particolare riguardo al cielo, che suddividevano in sedici regioni, ciascuna retta da un dio diverso. Le divinità principali erano Tinia e Duni, assimilabili a Zeus ed Era. Molte divinità infatti provenivano dalla religione greca. Forte! Copiavano tra loro questi popoli antichi! È meglio dire che si influenzavano a vicenda. Gli etruschi credevano di poter leggere il futuro. La casta sacerdotale, che faceva da tramite tra uomini e dei, rivestiva un ruolo di grande importanza nelle comunità etrusche. I sacerdoti indossavano un abbigliamento particolare, tra cui un alto cappello semiconico, come potete vedere rappresentato nella statuetta in figura, e portavano un bastone con una estremità ricurva. I sacerdoti indovini, chiamati aruspici, sacrificavano degli animali ed interpretavano forma e aspetto degli organi interni. Gli auguri, invece, scrutavano i fulmini e il volo degli uccelli. Quindi credevano nella vita dopo la morte? Sì. La cura che gli etruschi benestanti dedicavano alle loro tombe, arredate come delle seconde case, dimostra che credevano in una vita dopo la morte, in cui si continuava a godere dei piaceri mondani. Le pitture murali funerarie, ricche di decori e decorazioni, rivelano il gusto per la musica. Ogni momento della giornata era accompagnato dal suono di flauti e lire. Si narrava che addirittura durante la caccia stanassero le prede dall'etane al suono dei flauti. Gran parte delle opere d'arte etrusche giunte fino a noi sono appunto legate al culto dei morti. Ad esempio, il sarcofago degli sposi è uno degli esempi più famosi della scultura etrusca. Esso ritrae marito e moglie distesi l'uno accanto all'altro su una cline, tipico letto da banchetto. I due coniugi sono ripresi in un atteggiamento affettuoso. Questo elemento è sottolineato dal gesto del marito che cinge con un braccio le spalle della moglie, volto anche a sottolineare il legame paritario che li aveva uniti in vita. Nella società etrusca, infatti, le donne avevano un ruolo importante e prendevano parte alla vita pubblica. Potevano disporre di un proprio patrimonio e partecipare a cerimonie sacre, gare sportive e banchetti. E che lingua usavano? La lingua etrusca resta ancora oggi per lo più indecifrata. Gli etruschi restano un popolo affascinante e misterioso che sembra nascondere ancora molte sorprese e segreti. Ad esempio, si crede erroneamente che la civiltà etrusca fosse costituita per lo più da individui debiti alla danza e al vivere piacevole. In realtà, gli antichi etruschi seppero difendersi in modo onorevole e temibile in situazioni di conflitto, soprattutto in mare, dove si comportavano da feroci pirati. Ci furono una serie di conflitti tra romani e città etrusche combattuti dalla fondazione di Roma, VIII secolo a.C., al III secolo avanti Cristo. Difatti, una civiltà fiorente come quella etrusca non poteva non scontrarsi con una città-stato in piena espansione come Roma. Quindi si mischiarono molto con i romani? Sì, ciò avveniva riguardo la popolazione, ma anche nei posti di comando. Secondo le storie di Tito Livio, Tarquinio Prisco fu il primo re etrusco di Roma. Fu un monarca aggressivo e bellicoso, che fu poi assassinato in una congiura di palazzo. Di origine etrusca fu anche il re Servio Tullio, abile condottiero e capo della Lega Latina, la più importante alleanza militare dell'Italia centrale in quel periodo. Servio Tullio operò il primo censimento della storia romana ed elaborò un valido modello di riforma militare e sociale. L'ultimo re di Roma, etrusco, fu Tarquinio il Superbo, capace di instaurare un regime dittatoriale insopportabile per i romani, che si sarebbero infatti ribellati, giungendo infine ad abbattere la monarchia e a sostituirla con la Repubblica. Ripensate bene a quanto abbiamo raccontato sugli etruschi, la prima grande potenza italica. Ricercate e scrivete l'elenco dei re di Roma, evidenziando quelli di origine etrusca. La maggior parte dei re di Roma furono infatti di origine sabina o etrusca. Alla prossima ragazzi!